Ciao ragazzi, buongiorno a tutti, sono Michele Palladino, proprietario e coach di CrossFit Salerno. Ok, oggi martedì vi parlo del wood. Allora, abbiamo nelle skill lavoro con i dumbbell, quindi andiamo a fare un lavoro specifico di warm up per le spalle. Quindi vi propongo 10 pipe pass through, 5 wave push up e andiamo a fare 5 push jerk con i manubri con peso leggero, in modo tale da iniziare a fare un po' di lavoro specifico. Nelle skill abbiamo one arm dumbbell jerk, quindi andiamo a fare 6 serie da 30 secondi con mano destra e 30 secondi con la mano sinistra. Un minuto di riposo e incrementiamo il peso tra una serie e l'altra. Mentre il wood di oggi abbiamo il vocatore. Quindi per gli advanced abbiamo 6 round da 1000 metri, mentre per gli intermedi abbiamo 5 round da 1000 metri al vocatore. Mentre per i beginner abbiamo un lavoro da 3 round da 1000 metri. Ragazzi, buon divertimento, mi raccomando, ci vediamo domani. Ciao!